Come nasce questa mia passione per me lo scrivere, nel senso che a me da sempre piace scrivere, piace soprattutto annotare momenti di vita quotidiana. Mi piace tenere magari a puntare delle cose che succedono giornalmente nella mia vita e quindi da qui nasce anche un po' la passione nello scrivere, nello iniziare a scrivere qualche canzone. Quando si arriva a un certo punto, a un momento di iniziare anche ad andare oltre le come, bisogna vedere cimentarsi, iniziare a cimentarsi nella musica, nella scrittura di Netti, no? Spesso forse anche la scrittura, il canto autorato rende anche un po' più completo l'artista. This is the way you left me, I'm not pretending, no hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever, then live the rest of our lives, but not together. This is the way that we love, like it's forever, then live the rest of our lives, but not together. This is the way that we love, like it's forever.